A gennaio abbiamo un recap un po' diverso, nel senso che non abbiamo i soliti due talk come città le volte, ma facciamo un recap di quello che è successo nell'anno prima o la prospettiva di quello che succederà nel 2018, ovvero lo stato dell'arte e della tecnologia chatbot, ma non solo della tecnologia, anche del modo di fare i chatbot all'inizio dell'anno. Per cui ho una bellissima Trello Board, dove ho messo un po' di schede, ovvero l'idea è di avere 5-10 minuti su ogni schede, su quelle che poi decidiamo di fare, ma comunque su ogni tema per dire il design di un chatbot all'incirca, per quanto possibile spiegare così poco tempo, si fa in questo modo. Se lo fate in modo diverso probabilmente state sbagliando. Se il vostro fornitore ve lo proporrà in modo diverso probabilmente state sbagliando, per cui se qualcuno di voi è un fornitore di chatbot, tirate sulla mano nessuno, ok, sì, magari fate voi da speaker così raccontate come lo fate voi, sempre che sappiate, sempre che sapete, voi lo fate in modo diverso. Poi, come si fa il test del chatbot? Ad esempio, a novembre, qualcuno di voi si ricorda il torbio di novembre del Milano Film Festival? Sì, come se lo ricorda? Ci avevano raccontato come si faceva un test, perché mentre loro hanno provato a dare un mano a delle persone hanno scoperto che, ah, ci siamo dimenticati che si possa salutare il chatbot anche non nel momento in cui avevamo pensato noi e succedeva tutta una serie di cose brutte, tipo dopo hanno posto i miei miei, e ci hanno raccontato come si fa. Quindi, una piccola cosa di quel genere, mocap che è una cosa che mi piace molto, io ho messo addirittura il nome dell'azienda che forse è l'unica che conosco che fa uno strumento di mocap, ed è pure italiano, quindi vi faccio pubblicità volentieri. Come si fa il sviluppo? Ci sono tutta una serie quasi infinita di piattaforme per fare chatbot, studi di sviluppo rapido, se si vuole o si può anche creare da zero, programmando se non qualsiasi linguaggio si voglia, ci sono editor di conoscimento di linguaggio naturale, come a caso, e per fare la delivery, non so, si può fare Messenger, Telegram, eccetera, ci sono vari pubblici analitiche, delle piattaforme maggiori e altre che ci si può, e terze parti, cose che si possono costruire da soli, e poi tutta una cosa di questo genere. Non dico adesso, però nelle prossime tre settimane, diciamo, di qui fino a metà gennaio, mi piacerebbe riuscire a sfruttare tutto il gruppo, la community, per decidere che cosa fare, quindi qualcuno che dica, guarda, il pezzo su, il test piuttosto che tu di sviluppo, lo racconto io e in dieci minuti vi racconto qualcosa. Per esempio, questa sera, uno dei tour, che è proprio una piattaforma di sviluppo, quindi, un po' una preview, però appunto, non è l'unica. Ce ne sono altri italiani? Io lo saprei, non lo saprei. Praticipate, iscriveteci al nostro gruppo Telegram. Esatto, usiamo quello comunque come canale. Qualcuno che dice, questa cosa la racconto io, e così abbiamo dieci minuti. Dieci, 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 e alla fine mettiamo insieme l'ora in mezzo solita. E facciamo una specie di enciclopedia dello stato dell'arte dell'inizio del 2018. Che è molto meglio che se lo raccontiamo io e Valentino, uno, perché poi diventa noioso, due, perché se lo racconta qualcuno che lo usa, che lo fa, proprio per zabbè, tutti i giorni, è sicuramente mille volte meglio. Domanda? Prego. Ah, come succede questa bella board? Eh, poi dopo, vedo di condividerla sul gruppo. Se si può condividere, sì, la metterò pubblica, metterò l'url sul gruppo, mando anche un messaggio tramite meetup. Grazie. Grazie. Grazie.